Musica Ragazzi siamo di nuovo qui su Cuphead per il terzo episodio Incredibile come dopo tre episodi il computer sia ancora intero Devo mettere che è un record eh Contando che Super Meat Boy al terzo episodio era ancora facile C'è qualcosa in questo gioco che non va bene Qualcosa di grosso che in questo gioco non va bene Livello prossimo Fiori Sono tentatissimo di... Andiamo sul simple dai non c'ho voglia Guarda Non so perché Ho paura Oh mio dio è un boss È un cacchio di boss Come... Ma cos'è? Cosa... Balla Aiuto Ma cos'è sto robo? Oh oh No raga allora Sto cosa già non mi piace Ok No non mi piace per niente Proprio per niente Per niente Cos'è? Che cosa sei? Che cosa sei? Chi ti ha inventato te? Allora bisogna colpirlo nella faccia E fin qua ci siamo Ok guarda che brutto che è Ma sei proprio brutto Ma... Macina pure sti cosi Ho capito Guarda lo pio come balla È bellissimo Cos'è? 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 Ma che sta facendo? Ma cosa ha lanciato delle ciabatte? Cosa sono quelle? Tu non hai capito con che che fare Vero? Guarda guarda come lancia pantofole varie Cosa sono? Ok sti fiori non mi piacciono Aiuto 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 Sai che è only Ok va bene Dobbiamo andare avanti Su Non c'è tempo per fermarsi a parlare con le persone qui Cos'è sta casa del dado? The die house Ah ok Non è the dice house La casa del dado The die house Ok Qua si muore Cosa devo fare? Devo picchiarlo? No Devo parlarci Ok Con calma Oh mio dio Bellissimo Ma che Non capisco cosa stia dicendo Va bene Next isola Ok Prossima isola Bellissimo sto in tre e mezzo così Ah il nonno caffettiera Ok Bla 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 Il casino in cui siete dentro Bla 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 Ok Bla 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 No è reddato Sì vabbè Per l'incontro e robe varie Ok bla 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 Non mi interessa quello che sto facendo Bravissimi E mi raccomando Non sclerate troppo E non lanciate computer Giù delle finestre Eh sì Ok va bene Vai tranquillo Ragazzi siamo alla seconda isola Incredibile Non penso ci sarei mai arrivato Ma ci siamo arrivati L'importante è quello Sugarland Scimmi E la terra degli zuccheri Scimmi non so cosa voglia dire però Scimmi Oh mio dio Ma è un altro boss Ma perché? Ma con una partita normale? Cos'è sta roba? Aiuto Cos'è una caramella? Questa è la versione di Pac-Man zuccherosa Ecco infatti Guarda Pac-Man come T'ammazza C'è neanche partito il livello E vabbè fa lo stesso No cos'è adesso? Una tavoletta di cioccolato C'è Andiamo bene Io continuo a pensare Che il tizio che ha fatto sto gioco I tizi che avranno fatto sto gioco Quanti cacchio sono? Ma la droga lì Se la spartivano bene Ok l'ho distrutto L'ho distrutto la tavoletta di cioccolato Tiè Al diavolo Sì 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 Siete lì dentro che rompi Cos'è chiamato adesso? L'uomo fagiolo Cos'è? Oh aiuto Aiuto Ma che cacchio Allora bisogna stare qua sopra Perché sennò Oh 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 Scoppiato Oh mio dio raga No la caramella Paco manzucero Paura paco manzucero Orca mi si Ma è sempre lui Ma poi con una vita non può arrivarci Ok era il terzo Allora ragazzi Stiamo calmi Che sto diventando veramente forte in suo gioco Infatti vedi? Cioè neanche Neanche a dirlo Sapete che bello finire un episodio Senza spaccare una tastiera O un mouse Deve essere una roba bellissima Non so se avete presente Sono quelle sensazioni che Oh 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 Palla Palla Bisogna stare attenti anche l'uomo E faccio Oh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ma guardate mi ha beccato l'uomo fagiolo Dai raga Dai Manca solo la tavoletta di cioccolato Cos'è sto proiettile adesso? Oh 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 Ma cos'è un giandugliotto fatto male? Ma cos'è? Dai cacchio Ma dov'è la tavoletta di cioccolato? Io aspettavo la tavoletta di cioccolato Adesso arrivi a tavoletta di Ma porca vacca Facile arrivare quando Quando hai sconfitto tutti gli altri Ecco l'ecco l'ecco Ancora lui Ancora lui È imprevedibile È imprevedibile sto cosa Non puoi Non puoi No non puoi Non puoi batterlo Niente 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 Non è qualcosa Devo spaccarlo Ok subito Subito all'inizio Subito all'inizio contro i dubbi Va bene Ok Ok Levati Fuori Fuori di qui Mi ha tolto solo una vita? Va benissimo Tavoletta di cioccolato Ok Tavoletta di cioccolato È andata Abbiamo una sola vita La sola vita non ce la faremo mai Lo sappiamo tutti Poi contro la palla di Pacman qua Ma va là No 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 Il fagiolo No Palla Palla fuori Palla Palla fuori Fuori la palla Mandami anche quel robo rossa No questo No questo Questo non lo voglio Questo fa schifo Dammelo alla fine questa Che fa schifo Mi ha colpito comunque Quello è il bello Sono carichissimo Due di vita Dai Se mi vedi la tavoletta di cioccolato Va benissimo No questo No allora Non ci siamo capiti Non ci siamo capiti Ragazzi ci vuole calma Ci vuole solo calma qua Ok Ci vuole solo calma Porca vacca Ma sto cosa è impreviso Ma va dove cacli pare Va dove cacli pare No 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 Non c'ha Non c'ha un sistema Gira Va Eh dai Primo stage Primo stage Finito con uno di vita Partiamo bene Ma vedete che Non c'ha Non puoi Ok Ok Oh Raga Calmi È andato fuori Senza un colpo Senza un colpo Ho capito come si batte quello Non hai più segreti Non hai più segreti Uno di vita Bene Perfetto Cacchio ero riuscito per una volta A battere quello senza farmi colpire No uno di vita Va bene Va bene Se è mandato lui va bene Ad essere sincero È più facile lui Che la tavoletta di cioccolato Dai Ok Raga Ho chiamato la tizia Che cacchio fa Ma c'è chi Da là sopra Cos'è fortnite No raga No 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 già lui è al secondo No Vuol dire che Dal terzo ci sono O quello caramella Che va bene anche la caramella Sinceramente Ma quello La punta Del gianduiotto No ti prego Ok va bene la caramella Preferisco Preferisco la caramella Che Guarda Guarda che si mette Già sparare Io te la spacco Quella cosa Ok Calcolare Calcolare il tempo Calcolare il tempismo Il tempismo No 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 Il tempismo Ma perché sempre Così poco Il primo deve essere O il gianduiotto O la palla Perché sono quelle Che danno più fastidio Secondo Tavoletta Oh guardalo Guardalo questo Guardalo questo Questo è indomabile No questo bisogna Darli con l'acido muriatico Non muore Ecco la terza palla Terza palla Non va bene però Mi pare avessimo Un piano noi No mi pare Mi pare avessimo Un piano Te non l'hai rispettato Ma cosa ho cliccato No sono uscito Sono completamente uscito Va bene Ci siamo Terzo stage Infatti Terzo stage Vuoi che non ci sia lui Che è imbattibile Porca vacca Proprio alla fine Proprio per romperti i piani No Sei riuscito a fare il livello perfetto No Lui No 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 Aspetta devo farla super Ma raga io sti uomini Fagiolo davvero Io li ammazzo Li ammazzo tutti Faccio una strage Faccio una strage Di uomini fagiolo Che la vedete poi Come si fa la super qua Oh fammi la sta super Beccati questo Maledetta Schifosa Ci siamo Ci siamo Raga due di vita Due di vita Non possiamo perdere Due di vita Non possiamo perdere Tassativo È tassativo È tassativo Due di vita Porca miseria Che caldo Vi giuro Tra un po' Tra un po' Mi tolgo tutta la pelle Tutta mi scuoio Trovo che qualcos'altro Tra un po' Inizia sempre con la P Fa rima con pelle Dove sto andando a casa Io non mi chiedete dove vado Cos'è sta cosa Va bene Bla 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 Va bene Grazie È stato bello parlarti Oh ci sono delle giostre Ecco è un livello Infatti Guarda a caso Beppi the clown Carnival Carnival Dimmi che è un altro boss Perché tanto ormai Quasi boss Piovono È un altro boss Infatti Vedi Ma io cosa ho detto Ma che poi sembro io il matto No Che dice cosa Porca miseria Ma questo è scemo Questo è fuori di testa Altro che Beppi the clown Oh è matto Ma è fuori di testa questo Cosa fa Palloncini In forma di cane No questo è scemo Questo qua è Ebreaco marcio Davvero Il problema è che abbiamo una vita Porca miseria Una vita Non è forte Aspetta Aspetta Non è forte Non ha molta vita Ho visto che c'è due stage Va benissimo Due stage van benissimo Sì però se arriviamo con uno di vita Porca vacca Che può essere scarso quanto vuoi Ma è no Dai forza Beppi the clown Dai Facile è facile Basta colpirlo lì sulla testa Va bene Nessun problema I palloncini a forma di cane Non sono un problema Non è morto Non è morto Non mi ha fatto Knockout Cos'è sta roba No raga ma cos'è Toc toc Chi è Charlie Charlie chi Charlie il cavallo E niente Anche oggi La nostra dose di droga Ce la siamo presa Bisogna stare attenti Ma guarda Guarda sono le papere sopra Che mi fanno danni Mica lui di sotto Con il coso Ma che è che è Ma guarda Ma ubriaco fradice Questo comunque Dai forza Charlie Charlie Eh cosa sei Quello della matita Oh mio dio Ma perché devi venire da questa parte Dove sono io Cioè tra tutte le posizioni In cui devi venire Dalla mia parte A rompere Devi venire Allora Ok fermi Fermi Non è difficile Cioè non è difficile Neanche schivare le papere Perché comunque una volta che le fate girare In questo modo Poi non vi attaccano più Va bene Va bene Va bene Raga abbiamo tutte e tre le vite Tutte e tre le vite Non è difficile Non è difficile Per niente Ora Arriva il difficile Charlie 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 Maledizione Porca vacca Del tuo cavallo Del cacchio Guarda 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 lancia le cose Non so dove andarlo a cercare Per schivarle No non so dove andare Non so Non lo so Non lo so Non lo so Non si fa Vuoi sapere che fine fa quel cavallo Dopo un po' Te lo dico io Dove fa quel cavallo Ma dobbiamo fargli la super Assolutamente La super è l'unica cosa che va fatta E niente Io muoio subito Porca di quella vacca Ma poi guardalo Guardalo È lì che fa No raga io non capisco Non capisco Non li capisco io Sti feri di cavallo Questi qua d'oro Li capisco E ok bisogna fermarsi Questi no Questi no Questi non hanno un senso Non hanno un senso Vanno due cacchio Vogliono Dai distruggilo Ammazza Charlie Charlie qua Uccidilo Ammazzalo Porca vacca Non ce la fa Non ce la fa Non muore Non muore sto cavallo Non muore È morto È morto Invece è morto È incredibile È incredibile 40 minuti Posso dire che stiamo andando meglio Dall'altra volta Sì Stiamo andando meglio dall'altra volta Addirittura abbiamo sbloccato un altro livello Cosa sono questi tre Ciao piccoli Cosa fate Barbershop Trio Ok Non mi interessa un cacchio di quello che dite Di qua Ah di qua si va Oh Ciao E sì Un altro mondo proprio da esplorare Guarda io credo di aver dato abbastanza Non so minimamente dove siamo arrivati col video Ma non mi interessa Io vi ringrazio Vi saluto Ci vediamo alla prossima parte Forse Forse la prossima parte Qui dall'Anulf è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao